Philips ha lanciato una nuova soundbar della gamma Fidelio, la gamma dedicata all'audio di alta qualità si chiama HTB9150 ed è una soundbar che riesce a garantire fino a 600 watt potenza audio in uscita quindi è una potenza decisamente molto molto elevata la soundbar integra anche un lettore Blu-ray 3D che vediamo qui il disco può essere caricato a slot in dall'alto la soundbar è anche molto sottile e consente di essere installata sia a tavolo, quindi appoggiata su una superficie come in questo caso sia appesa a un muro oltre alla soundbar c'è anche un subwoofer esterno che garantisce la riproduzione ottimale dei bassi che viene collegato tramite cavo alla soundbar stessa oltre alla sorgente Blu-ray la soundbar può anche essere collegata a un'altra sorgente tramite cavo ottico quindi connessione digitale ma anche a una docking station per prodotti Apple, quindi iPod e iPhone c'è anche un ingresso USB per riprodurre contenuti multimediali e persino uno slot SD per schede di memoria all'interno troviamo anche la piattaforma Smart TV di Philips che consente di noleggiare film e acquistarli online tramite portali AceTrux, Cili e molti altri per questo è integrata la connessione wifi ma anche una porta ethernet per chi invece preferisce il cavo di rete più classico la HTB9150 di Philips Fidelio è già disponibile nei negozi Grazie Grazie Grazie.